Avevano lasciato l'auto nel parcheggio della chiesa San Giuseppe al porto, ma quando sono tornati a riprendere il mezzo, la brutta sorpresa. I padri agostignani infatti ogni sera chiudono il cancello intorno alle 22.30, un'azione comunicata anche in un cartello affisso all'ingresso. Nonostante questo, un gruppo di ragazzi nella notte tra sabato e domenica scorsi, per poter uscire, hanno spaccato il braccio del cancello, ma sono stati colti sul fatto dalle pattuglie della polizia stradale. Non è la prima volta, qui purtroppo è la chiesa sul porto, sul Lido, la parte inne di Fano e qui noi abbiamo avuto da sempre problemi con il sabato notte, soprattutto tra il sabato e la domenica. Sabato notte all'arrivo degli agenti c'è stato un fuggi-fuggi tra i giovani, ma un equadoregno è stato riconosciuto come uno dei responsabili della vicenda ed è stato denunciato a piedi libero. Solo in un secondo momento si è scoperto che in realtà il ragazzo si trovava lì per puro caso e vedendo delle persone in difficoltà ha deciso di aiutarle inconsapevole del guaio a cui sarebbe andato incontro. Questo episodio, ha sottolineato padre Gianfranco, non è la prima volta che accade. Nel corso degli anni infatti sono stati diversi, per non parlare dei pali, della segnaletica che vengono spesso diventi durante il fine settimana. Sono troppi, denuncia gli atti di vandalismo nel quartiere del Lido. Io sto venendo dal commissariato perché il gruppo che ha divelto il braccio del cancello era per riprendersi la macchina che aveva lasciato qui. Quindi erano in 12, 12-13 che si sono accorsi, quindi sono ammucchiati e chiaramente la forza di 12 persone ha divelto il braccio, ha piegato il perno e quindi ha creato un danno. Ora stiamo cercando appunto di mettersi un po' anche d'accordo con le persone perché mi sembra almeno i proprietari di una macchina, persone oneste che in fondo sono venute già a chiedere scusa perché sapevano benissimo che il cancello si chiudeva alle 10 e mezzo, noi sabato notte si rimane qui fino alle 11 e mezzo, 11 e tre quarti, poi bisogna chiudere perché se rimanesse il cancello aperto il sabato notte alle 2, alle 3, alle 4 della mattina divergono le piante come hanno fatto spessissimo, rovesciano i vasi, fanno le loro cose, i loro bisogni sul piazzale e la domenica mattina noi abbiamo le celebrazioni. A quanto ammonta il danno? Ma l'ultimo braccio rotto fu la notte di Pasqua, nella veglia pasquale del 2014 e noi abbiamo speso tra messe in opera e acquisto e riacquisto del braccio un 2.400. Il problema della mancanza di parcheggi a Lido di Fano persiste ormai da diverso tempo, mesi fa inoltre è stata approvata la variante urbanistica che riguarda l'area dell'ex Hotel Vittoria un progetto che permetterà non solo di realizzare un hotel a 4 stelle nel parcheggio privato gratuito all'altezza del Lido 1 ma anche molte opere compensative affinché si possa realizzare una zona missa a prevalente destinazione ricettiva ma per sapere se il parcheggio potrà rimanere a disposizione degli automobilisti anche per la prossima stagione estiva lo abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini. Io ritengo di sì in quanto ancora l'approvazione definitiva del piano ex Hotel Vittoria non è stata fatta verrà prossimamente in consiglio comunale e poi ci saranno da approvare i progetti delle opere di urbanizzazione e quindi non è che ci sono i tempi in questo momento per immaginare che quest'estate si faccia si realizzi nulla in quell'area tuttavia ecco nell'ambito di quella trasformazione urbana vi è la riallocazione dei parcheggi da l'area che oggi viene utilizzata al parcheggio ex chief che verrà potenziato e dotato di un sottopasso ferroviario oltre che di una passarella nuova sul torrente Arzilla che ricollegherà e rifunzionalizzerà molto meglio il parcheggio ex chief dando così una possibilità migliore di raggiungimento e fruizione del lungomare Simonetti e delle spiagge. Grazie Grazie